RIVETTA ORMAI Riccardo Scaletta ha volato letteralmente la prima parte di gara Riccardo Scaletta a comando Brunetto è arrivata anche Rugiana De Valliere RIVETTA ORMAI RIVETTA ORMAI La distanza lunga è la mia preferita e sono riuscita a vincere e sono molto contenta Quando corro, corro per vincere e a me piace vincere poi non è per niente facile la concorrenza in Italia fortunatamente sta sempre migliorando e per me è sempre uno stimolo correre anche sul territorio nazionale Grazie a tutti Grazie a tutti